amici buonasera a tutti buonasera ci siamo ritirati in questo momento stanchi ma soddisfatto che si mangia? che si mangia? che si mangia? così veloci veloci amici non potevo cucinare perché è tanto una bella schiacciata che bastardi che cavofiore non è bastardi che c'è su per i pere bastardi i cavofiore scelto con dalle aree francesca l'ha portata la testa con questa schiacciata che cavofiore che non l'ha mai trovato ora me la sono ordinato ma ordinai e c'è una cosa di spettacolare amici buonasera a tutti ci vediamo in live